San Lazzaro, Sant'Orso, Fano II e Bellocchi. Dopo aver realizzato uno sgambatoio in ognuno di questi quartieri della città, l'assessore al decoro Barbara Brunori è al lavoro con i tecnici del comune per due nuovi impianti, alla trave in uno spazio di 25 metri per 40 e a centina rola di 30 metri per 45. I lavori di un importo complessivo di 60.000 euro sono stati progettati dopo le tante istanze raccolte dall'amministrazione e avanzate dai cittadini che chiedevano queste aree a gran voce per evitare l'utilizzo dei parchi pubblici come sgambatoio. Realizzeremo entro la primavera 2023 altri due nuovi sgambatoi, precisamente uno a Centinarola in via Mufalcone dietro il campo sportivo e l'altro invece in zona trave, precisamente di fianco alla struttura della Virtus, quindi sul piazzale Campioni dello Sport davanti al circolo tennis. Si tratta di due nuove aree che si aggiungono alle quattro già realizzate, sono aree di sosta, così di pausa le chiamiamo, anche di socializzazione dove possono fare amicizia sia cani ma anche i padroni, tra l'altro aree che saranno attrezzate di una recinzione alta 2,20 metri, quindi di ampio spazio come quelli precedentemente realizzati sia a Fano 2 che a Bellocchi, che a San Lazzaro ma anche a Sant'Orso. Sono dotati di arredi, quindi di panchine per ospitare un po' anche i proprietari e fare in modo che possono essere comodi mentre i loro amici sono al gioco, delle piante per quanto riguarda l'ombreggiamento, dei cestini per la corretta raccolta delle deiezioni dei propri cani e anche di un impianto di irrigazione per quello che è un rifornimento proprio dell'acqua. Interverete anche sull'illuminazione? Sì, ci saranno dotati di un nuovo impianto di illuminazione entrambi e quello che invece ci tengo a sottolineare a tutti i cittadini è il rispetto del regolamento sia per quanto riguarda proprio la tenuta dei propri amici a quattro zampe all'interno nella miglior convivenza ma anche per quanto riguarda proprio del rispetto del decoro e dell'igiene urbana proprio perché spesso vengono magari abbandonate delle deiezioni anche fuori di questi spazi e non è un comportamento proprio civile, civile di senso civico per cui ognuno si doti del proprio sacchettino e si impegni veramente ad accompagnare il proprio cane ad una bella passeggiata pulita. Continuerete, Assessore, anche nei prossimi anni su questa linea? Proprio alla luce di questa esperienza positiva, l'impegno di continuare a realizzarne altri sarà sicuramente attuale attuale perché ogni anno ne abbiamo realizzati due e così sarà anche per il prossimo quindi ci sono già tante istanze a disposizione e proprio perché questi spazi diventano di vera socialità.